Dov'è Jane? Jane non qui. Abbiamo... l'intera casa. Tutta per noi. Accidente, Carolyn. Quando è che sei diventata così? Senza gioia. Senza gioia? Non sono senza gioia. Sembra che ci siano tante cose di me che tu non conosci, mister Furbetto. È piena di gioia la mia vita. Dov'è finita quella ragazza? Che fingeva un attacco alle feste studentesche quando si annoiana. Che correva nunda sul tetto del palazzo dove abitava per scioccare gli elicotteri del traffico. Ti sei completamente dimenticata di lei. Perché io no. Lester verserai la birra sul divano. E con questo è solo un divano. Questo è un sofà da 4.000 dollari sonanti. Cappezzato con seta italiana. Questo non è solo un divano. È solo un divano! Non è la vita! Questa è solo roba. E per te è diventata più importante che vivere. Beh tesoro, la cosa è pazzesca. Sto solo cercando di aiutarti.